Sogno una chiesa che sta per strada, che parla a tutti e vuole raggiungere il cuore di tutti e parla l'unica lingua che è quella dell'amore per farsi capire nella babele del mondo. Sono le prime parole che il cardinale Matteo Zuppi pronuncia come neopresidente della conferenza episcopale italiana. Con Zuppi, la CEI volta pagina e si appresta ad incarnare quel modello di chiesa in uscita tanto cara a Papa Francesco. Nelle scorse ore il saluto, a tratti un po' commosso, del cardinale Gualtiero Bassetti che ha guidato la chiesa italiana in anni complicati, specialmente gli ultimi, segnati dalla pandemia che lo ha toccato anche di persona. Torna a parlare anche della necessità di un rinnovato impegno dei cristiani in politica, un impegno laico e non clericale, auspica l'Arcivescovo di Perugia, città della Pieve, che si appresta a lasciare anche la guida della diocesi. Bassetti tocca nell'introduzione anche un tema delicato, quello della pedofilia. Confermiamo il nostro impegno per la tutela dei minori e la prevenzione degli abusi. Vogliamo ambienti sicuri e a misura dei più piccoli e vulnerabili. Intendiamo promuovere una migliore conoscenza del fenomeno degli abusi per valutare e rendere più efficaci le misure di protezione e prevenzione. Un impegno, a dire il vero, ancora vago e generico, che forse non sarà ritenuto sufficiente dalle associazioni delle vittime che hanno indetto una campagna per sollecitare la chiesa italiana ad un'indagine indipendente come fatto da altri episcopati nel mondo. I sacerdoti possono celebrare l'Eucaristia.